guardate fantastici esemplari di guzzi motocarri ercole stupendi in versione militare tutti senza cabina guardate i dettagli veramente ben restaurati molto 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 belli sempre complimenti ai proprietari siamo qua a raduno camion sto diciamo dov'è con questo allestimento molto particolare bello non so se fosse dato proprio così comunque e secondo con questo allestimento molto particolare anche questo speriamo siano vuoti uomini donne offro vino offre la casa iscrivetevi lasciato un like commentate